Diana Roncioni, in Giorgio Ambrosoli, tu interpreti sua moglie Anna Lori, intanto una bella responsabilità credo, no? Sì, è una bellissima responsabilità perché penso che come attrice in qualche modo possa essere un privilegio far parte di progetti che significano qualcosa non solo per me come attrice ma anche per gli altri che abbiano un messaggio. E in qualche modo interpretare grandi personalità per me come attrice è sicuramente qualcosa di stimolante e di cui insomma che mi auguro avvenga di nuovo, quindi sono sicuramente onorata di averla interpretata. È stata sicuramente una responsabilità e per questo mi sono munita di tutto quello che occorreva sapere riguardo alla sua vita, grazie anche all'aiuto di Umberto Ambrosoli che ci ha procurato tantissimi aneddoti e momenti di vita di questi due personaggi. L'ho incontrata anche la signora? L'ho incontrata oggi, l'ho incontrata oggi e mi sono limitata a ringraziarla ed è stato un bell'incontro, insomma è stato emozionante. Per questa interpretazione ci hai messo qualcosa di tuo, della tua personalità oppure hai cercato soltanto di avvolgere questo personaggio che è stato importantissimo per la vita di Giorgio Ambrosoli? Assolutamente, ma io quando interpreto dei personaggi quello che mi chiedo è che decisione hanno preso rispetto a me, differente, no? La decisione importante che Anna Lory compie e che la rende in qualche modo straordinaria, anche se è un termine che preferisco non usare semplicemente perché in qualche modo ci distacca dal prenderci le nostre responsabilità e in questo modo voglio dire anche noi possiamo farlo, diciamo il gesto, la decisione che lei ha preso è stata quella di una volta vista la lettera a testamento che Giorgio le aveva scritto di non dire nulla e di non far nulla. Ora è chiaro che una moglie avrebbe potuto andare dal marito e dire oddio non voglio perderti, non voglio mettere in pericolo la mia famiglia perché lei non l'ha fatto, non l'ha fatto e questa decisione è stata una decisione che significa che in qualche modo è rimasta molto in contatto con se stessa e con la propria integrità ha capito, per un momento si è fermata, non ha reagito distinto, non ha reagito per interesse personale e ha deciso che era la cosa più giusta da fare e ha accettato le conseguenze di questa decisione. Quindi io mi sono focalizzata, ritornando a come ho deciso di interpretarla, su questa decisione che lei aveva preso e quindi come costruisco un personaggio partendo da questa importante decisione e poi cercando di in qualche modo restituire il lato umano e anche molto divertente e vivo che lei ha, che Umberto ci ha raccontato dagli aneddoti e che in qualche modo non la rendesse una statua o troppo distante dall'umanità, dalla realtà. Grazie. Grazie a te.